Ciao ragazzi oggi vi mostro un'offerta sensazionale ovvero potete comprare il vostro zombie al fatidico prezzo di Non ha prezzo Ma veramente Non ha prezzo Su Black Ops 2 ragazzi potrete acquistare il vostro zombie preferito, dargli un nome, giocarci e affezionarlo a lui come se nulla fosse Lo zombie non vi attaccherà per niente, potete stare tranquilli, sono addestrati a non attaccare il proprio padrone Potrete dargli così un nome, una casa e potrete farlo giocare Vi ricordo che è al fatidico prezzo di Non ha prezzo Perfetto ragazzi, spero che vi divertiate col vostro zombie domestico e ciao Ciao ragazzi! Ciao! 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 Un dead but you make